Buonasera, siamo qui alla SB Record di Silvio Viscotti, abbiamo appena terminato il brano in un'avanzata coppia con l'artista Ivanna Dorato. Mando un bacio a Mirko Stello e Lucia Di Bonuto, gli autori del brano, e un bacio a Silvio Viscotti, l'arrangiatore del brano. Allora, voglio mandare dei saluti anche a lui e ringrazio a lui e a Giorgio per aver scelto Mirko il brano, un bacio alla SB Record e agli autori. Adesso lui vi farà ascoltare un pezzettino, ma solo un pezzettino di questa canzone. prossimamente il video ufficiale, fatto da Salvatore Maiorano. Un bacio! Ed era un pezzettino del suo brano Io vi mando un bacio da parte mia, condividete in tanti, un bacio da me e da Giorgio. Mi raccomando, seguiteci. Un bacio alla SB Record.